La fatturazione elettronica di Aruba è per tutte le partite IVA, aziende, artigiani, commercianti, liberi professionisti, contribuenti forfettari, insomma per tutti coloro che devono adeguarsi all'obbligo di fatturazione elettronica e per chi cerca una soluzione semplice, veloce, completa per la gestione digitale delle fatture. Il costo annuale del nostro servizio include la gestione del ciclo attivo di fatturazione, ovvero la creazione o il caricamento massivo di fatture e file XML, la trasmissione al sistema di interscambio, la posizione della nostra firma digitale qualificata, la ricezione di notifiche sullo stato delle fatture inviate, la ricezione di fatture elettroniche direttamente sull'applicazione, la gestione delle comunicazioni finanziarie e la conservazione a norma di fatture e notifiche. In ogni momento puoi scaricare tutti i documenti e pacchetti di archiviazione. Per esibizione fiscale o spostamento su altro sistema di conservazione non devi preoccuparti. Il nostro servizio ti risparmierà tutti i passaggi più tecnici e complessi, lasciando a te solo l'onere di compilare la tua fattura e cliccare sul tasto invia. Grazie alla fatturazione elettronica di Aruba potrai inoltre collaborare gratuitamente online con il tuo commercialista o acquistare uno dei tanti servizi o moduli aggiuntivi per gestire ordini elettronici, incassi e pagamenti. Vai al prossimo video per saperne di più.